musica bella raga bentorni ai play in questo nuovo video oggi si vede un nuovo video di fortnite adesso non siamo dentro il gioco ma siamo nel menu già alcuni di voi avranno capito e raga adesso noi andremo a shop cioè io l'ho preso e andremo a fare salvare il mondo quindi adesso andiamo a ok raga stiamo entrando io non l'ho mai giocato l'ho solamente visto in qualche video ok ci sto caricando il tutorial adesso ci sarà un video quindi adesso io mi starò zitto e poi tutto se non non se non 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 ma non 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 Fun fact, our mission was to prevent the storm from happening, so on to Plan B. Plan B. You guys got anything? Anything? Come on. Distress call. Incoming. Oh, I think you just found our Plan B. Ramirez here. I'm requesting backup. Read you loud and clear. We have survivors in danger. The storm's closing in. Please hold. Do not put me on hold. Let's cut to the chase. Have you ever considered fighting the forces of evil? Because we really need a commander, and I think you've got what it takes. Don't listen to him. You're going to be amazing. Connecting you to our commander now. Guys, take your positions. Lock. Flip the switch. Whenever you're ready, commander. Okay, commander. Ramirez is counting on you to get those survivors to safety. Hello? Ray, if you can hear me, now would be a great time to hurry up. Copy that. Weapons and building systems coming online... Now. Yeah. Back in action. We got a pack of husbands ahead. What's our firepower situation? See for yourself. Lead the way, commander. Okay. Take them out. Put them on the map. I'm going to take them out. Okay. I'm going to take them out. Oh, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok 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 Ok, ok Ok Sì, non devo spendere un po' di materiale anche se dopo andiamo a prendere fuori La cassa è molto più lenta We can help with that We need some crafting materials Try smashing up some cars and trees Dov'è quanto salta strano? Good choice Cars are a trusty source of metal nuts and bolts and mechanical parts Minna vera che non c'è un po' di vita Non c'è un po' di vita, non c'è un po' di vita Non c'è un po' di vita Ok 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 tritur good sources of wood for building and twine for crafting ma veri veicoli si sviluppa troppo Quattro ci sono da? E' un'altra cosa? ah ah non è vero che devo tenere non è vero che non sono tutta oggi ora ci vediamo dopo perchè non capisco perchè non mi fa prendere le ali non la reale ma passo grande non Non si fa qua Si fa Ah, va bene Si Sì Aspettare Il Si Sì Il Si Il Il oh we're taking damage guys what's your status we can't find a way out of here soon we're all as good as dead don't worry hermano we're working on it no need to worry we've got your back let's place some traps to keep us from getting inside place traps in front of the door those traps should buy us some time let's see how those survivors are holding up Ramirez hang tight we're gonna take care of it oh Ramirez I'm getting some seriously weird readings here what's on the other side of that wall no clue we couldn't find a way in I can fix that enter edit mode nice work let's go I don't have any idea ok I don't know why there's a box I don't know why there's a box I don't know why there's a box I still have to go some sort of rocket actually wait it's the best sort of rocket commander there's a satellite on board if we have a satellite we can guide Ramirez and the survivors back to our home base then let's launch this thing oh oh Sì, 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 sì. non sono una persona intelligente penso che quando vi dicevo che non ero abituato ah ok non 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 Oh Oh I 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 Adesso Io Chiudo questo video e adesso uscirà un altro video sempre di questo Vabbè raga se vi è piaciuto iscrivetevi al canale lasciate un like condividete e noi ci vediamo a un prossimo video ciao raga